Ciao a tutti e benvenuti alla nuova video intervista della serie Il Futuro dell'e-commerce. Oggi abbiamo il piacere di avere con noi Francesco Chiappini. Ciao Francesco, come stai? Ciao Filippo, grazie dell'invito. Sto bene, grazie. Bene. Allora, per chi non lo conosce, Francesco Chiappini è CEO di e-commerce school, imprenditore, formatore e autore. Poi dopo sicuramente Francesco ci dirà qualcosa di più. Io Francesco ci seguiamo mai da tempo, ci siamo visti di persona anche in occasione dell'e-commerce food conference. E abbiamo avuto il piacere di fare due chiacchiere. Sono molto felice Francesco che hai accettato appunto l'invito a partecipare a questa iniziativa. Sono molto curioso di sapere la tua su tanti temi legati al mondo e-commerce. Prima di passare alle domande faccio solo una breve introduzione dell'iniziativa al futuro dell'e-commerce che è l'idea di cercare di anticipare un po' le tendenze del settore facendo questa serie di video interviste insieme a imprenditori, commerce manager, figure chiave di questo settore sia attraverso video interviste sia attraverso il nostro magazine. Giusto una breve presentazione del nostro gruppo. Il nostro gruppo è formato da The Space che è la nostra società che si occupa di sviluppo di siti e-commerce, The Strategy che è la nostra società che si occupa di performance marketing, e Tellem che è la nostra società che si occupa di creazione di contenuti. Come dicevo il format è dato da questa serie di video interviste che non sono altro che delle chiacchierate, delle conversazioni insieme a professionisti come oggi abbiamo il piacere di avere Francesco, e saranno pubblicati sul nostro canale YouTube di The Strategy. Mentre la seconda parte del format è data dal magazine che è una pubblicazione cartacea e digitale che presenteremo in occasione del NETCOM Forum a Milano. Ringrazio tutti coloro che stanno partecipando a questa video intervista, sentitevi liberi di condividere, commentare perché ci fa estremamente piacere. Parto subito con le domande, Francesco. La prima domanda che ti faccio e che faccio a tutti anche i partecipanti è come ti immagini l'e-commerce del futuro? Beh, sicuramente domanda impegnativa, però quelli che sono i trend oggi ci rappresentano un e-commerce sempre più liquido. Questo perché? Perché le piattaforme dove possiamo distribuire e vendere i nostri prodotti sono sempre di più, quindi non c'è solo il nostro portale dove vendiamo il prodotto, ma c'è un network, per esempio, di marketplace molto molto ampio sia in Italia ma ovviamente anche tantissimo all'estero, sia orizzontali che verticali, ma soprattutto c'è anche tutto quello che riguarda l'ecosistema, per esempio, dei social media che iniziano sempre di più ad aprirsi all'e-commerce. Anche Google stesso, per esempio negli Stati Uniti, sono diversi anni che porta avanti dei test su Google Shopping per transare direttamente, quindi l'obiettivo poi di queste piattaforme è quello di tenersi il traffico al proprio interno, quindi cercare di aumentare l'engagement, di offrire anche servizi come l'e-commerce, sia perché così mantengono ancora di più gli utenti all'interno delle proprie piattaforme, sia perché è una forte fonte di monetizzazione per questi portali. TikTok, per esempio, già Duin in Cina da tanti anni, integratore e-commerce, anche qui in Europa ha lanciato tutta una serie di servizi interessanti, si può vendere anche all'interno dei video di YouTube collegati, per esempio con l'integrazione con Shopify che funziona molto molto bene, quindi oggi dove possiamo vendere e distribuire il nostro prodotto è davvero molto molto più ampio come opportunità e quindi il primo concetto è sicuramente, sarà un'engagement sempre più liquido, dove il nostro portale diventa importante nel momento in cui il nostro brand è forte, se il nostro brand non è forte e magari sono rivenditore e vendo prodotti cosiddetti commodities, quindi rivendo prodotti di terzi, con molta probabilità questo traffico se lo terranno le piattaforme esterne e avremo difficoltà poi a portarcelo sul nostro, quindi diventa importante anche lavorare tanto sul brand come un altro scenario estremamente attuale è quello legato a tutto il mondo del content marketing e di quanto oggi sia molto più importante costruirsi una community ancora prima di avere un prodotto qualitativamente elevato o comunque anche commercialmente ben posizionato. È molto importante avere la community, creare dei contenuti non solo di marketing di prodotto, ma contenuti che vadano a parlare a target di riferimento che possono essere formativi, emozionali, di approfondimento e quant'altro. Vediamo sempre di più l'impatto che hanno per esempio gli ambassadori, gli influencer nel vendere determinati prodotti, quindi è sempre più importante quando parliamo di piano marketing di ragionare su un piano di content marketing e partire da quello. Vedo anche degli e-commerce sempre più automatizzati grazie all'utilizzo dei dati e dell'intelligenza artificiale che impatta nell'operatività quotidiana e quindi ci permette di ottimizzare quelli che sono tutta una serie di posti fissi, in parte anche variabili, e questo sarà un bene insomma anche per la sostenibilità degli e-commerce. Quindi l'impatto anche dell'intelligenza artificiale altrettanto insomma cambierà i scenari da qui in avanti. Condivido assolutamente in pieno. E secondo te Francesco, visto che voi trattate spesso il tema dei modelli di business per e-commerce, che è un tema che a me interessa molto, e secondo te quanto è importante oggi la definizione del corretto modello di business per un e-commerce, sia in fase di start-up che per le aziende mature, diciamo? E secondo te quali sono i principali modelli da seguire, diciamo? I modelli in realtà possono essere diversi, quindi si deve partire anche un po' da quella che è l'ossatura e la struttura della società se per esempio già è operante, quindi se prendiamo per esempio un'azienda B2B che già opera sul mercato retail tramite forze vendita o commerciali, è chiaro che nel loro caso la prima cosa da fare è digitalizzare intanto quello che già fanno, quindi puntare a una digitalizzazione del B2B, automatizzare e digitalizzare tutta una serie di processi in principal modo commerciali e fare in modo di aiutare la forza vendita con delle attività di marketing guidate direttamente dall'azienda. E quello, diciamo, non è tanto un discorso di posizionamento, ma è di andare a duplicare quello che si fa già nel B2B e questo, diciamo, spesso è facile duplicare con uno di business. È diverso se per esempio pensiamo a tutto il mondo retail che decide di rovesciarsi e di dedicarsi alla vendita online. Perché? Perché duplicare il modello di business come quello che io ho sul retail, molto spesso sull'online non funziona. Prendo un negozio magari di abbigliamento, piuttosto un negozio che vende prodotti per animali, andare a duplicare quel modello che funziona nel loro quartiere perché hanno i loro clienti fidelizzati, hanno la penuabilità garantita, diciamo, delle attività che fanno sul fisico, andarsi a posizionare online con quello stesso modello significa comunque scontrarsi con una competizione che non è più territoriale, ma è nazionale, fatta di player spesso molto più grandi, sia sul territorio nazionale, ma anche player internazionali, vedi Zalando, per esempio, nel settore della moda, oppure grossi gruppi, se prendiamo il mondo del pet, che sono forti sia sul fisico che sull'online, quindi in questo caso bisogna capire qual è il miglior modello di business, cambiare anche posizionamento, perché l'online richiede per spesso un posizionamento verticale sulla nicchia e non generalista, e questo diventa fondamentale nella parte di pianificazione, quindi il consiglio che posso dare è di ragionare bene sul modello di business, sul posizionamento, di non andare a duplicare, tutcurt, quello che è il modello che abbiamo sul fisico, perché non è detto che funzioni online, quelli che funzionano sono diversi, si sta sviluppando sempre di più, ne dico uno, ma ce ne potrebbero essere davvero tanti, il modello che parte dai contenuti, quindi vendo, non so, integratori, invece di venderti il prodotto, ti vendo, tra virgolette, o comunque ti formo sui workout, ti fidelizzo all'interno di tutta una serie di contenuti e solo dopo ti porto all'acquisto di un determinato prodotto, lo potrei applicare anche nel mondo del vino, paradossalmente, quindi prima di offrirti un prodotto ti faccio tutta una serie di contenuti che ti portano poi a fidarti di me, quindi la vendita poi può essere conseguenziale. È uno su... noi abbiamo... in un corso ne insegniamo più di 50 di modelli, quindi dopo possono essere anche mixati questi modelli, quindi potrei prendere un modello, inglobarlo in un altro, fare una sorta di combo e quindi essere ancora più interessante. Sì, sicuramente stanno evolvendo molto, no? Questi modelli di business, rispetto a qualche anno fa si aggiunge sempre di più la consulenza, piuttosto che, come hai detto te, altri si parte prima dal dare valore e poi si monetizza la community, eccetera, quindi ne vedremo sicuramente delle belle. E secondo te, Francesco, quali sono un po' gli errori più comuni che vedi fare agli e-commerce, sia in fase di lancio che nelle fasi successive? Allora, la lista in realtà è lunghissima, però innanzitutto sicuramente è un pianificare al dovere, ok? Quindi qualsiasi sia il business che vogliamo lanciare anche sul fisico è necessario iniziare da una pianificazione, da un budget che mi dica qual è il mio, diciamo, break even, quali sono i costi che devo sostenere, quali sono anche i tempi in cui vado a ottenere, diciamo, il ritorno dal mio investimento. Spesso si parte dal budget che uno ha, quindi dice, non so, siamo io e te, vogliamo aprire un e-commerce, abbiamo 20.000 euro a testa, abbiamo 40.000 euro in totale, partiamo con questo budget. No, è il mercato e il tipo di business, il modello e come puoi inserirti in quel mercato che comanda l'investimento che necessita il tuo progetto per poter prosperare. In più l'advertising costa sempre di più perché gli inserzionisti aumentano, le complessità nella gestione dell'e-commerce aumentano perché oggi devi avere competenza su N verticalità e quindi di conseguenza non puoi pensare che ti bastano i soldi che hai in tasca ma serve un studio specifico, un business plan o comunque un studio iniziale, sia strategico, operativo che soprattutto finanziario che ti permetta di capire quello che effettivamente serve al progetto. In molti e-commerce e molti imprenditori commettono questo errore perché poi magari spendono tutto in piattaforma e questo è un altro errore, quindi credere che la piattaforma sia l'e-commerce e spendono tutto sull'aspetto tecnologico e poi non hanno gas per alimentare la crescita dell'e-commerce stesso. Io consiglio sempre di investire sul budget totale che richiede il progetto massimo un 20-30% sulla piattaforma, non di più. Se poi è un progetto B2B che è più incentrato sulla parte tecnologica può arrivare anche a un 50%, poi spesso il B2B lavora già con i clienti che ha e le nuove enagrafiche non sono così ampie come magari tutto il mondo B2C e quindi lì puoi fare anche dei ragionamenti un po' più diversi e investire anche un po' più in piattaforma. Però spesso tanti imprenditori sbagliano perché non hanno idea di tutto quello che serve per fare un e-commerce, non sanno che la piattaforma è un piccolo satellite di tutto l'universo che dobbiamo costruire e quindi poi tendenzialmente o si fermano o implodano finanziariamente. Altri errori sono quelli di sottovalutare dunque gli investimenti ma anche gli investimenti non solo per quello che riguarda il progetto ma anche per quello che riguarda la parte tecnologica che ha un costo di start-up ma ha un costo comunque nel tempo perché non devo acquisire quello che viene definito debito tecnologico, devo essere sempre allineato a quelle che sono le novità e le evoluzioni delle tecnologie e anche di saper investire su professionisti qualificati perché oggi sul mercato sulla stessa piattaforma con le stesse caratteristiche puoi avere in mano un preventivo da 80.000 euro e un preventivo da 10 l'imprenditore non riesce a capire spesso le differenze devono essere più bravi i consulenti o le agenzie a far capire quelle che sono poi le differenze operative e qual è il rischio di andare a spendere 10 invece di 80 perché poi magari ne spendi 10 ma negli anni ne spenderai comunque più di 80 è solo un discorso poi di tempo oppure pensare che sia un investimento a breve termine per quello c'è il trading ci sono le operazioni immobiliari ma se vuoi fare e-commerce e-commerce necessita di tempo per crescere consolidare fatturato consolidare database e anche consolidare una sostenibilità che ti arriva nel tempo con l'aumentare dei clienti che produci e sul fatturato ricorrente che vai a produrre sui già clienti con attività di federizzazione o di marketing automation poi non pensano quasi mai all'estero e quindi si vede sempre l'e-commerce applicato al mercato nazionale ma è un mercato veramente piccolo ancora l'Italia mentre a vendere almeno in Europa oggi è semplificato a livello legal è molto più semplice anche con i corrieri riuscire a spedire con dei costi comunque ottimizzati e i market price per esempio ci permettono anche un primo step di internazionalizzazione non per forza devo andare a vendere direttamente ma posso passare attraverso anche canali esterni un altro errore è quello di non digitalizzare il catalogo a dovere come ti anticipavo nella prima domanda da qui in avanti potremmo vendere i nostri prodotti su n piattaforme per fare questo mi serve un catalogo digitalizzato in maniera corretta e profonda con tutte le descrizioni tutti gli attributi tutte le foto video rich content che posso andare a inserire il cosiddetto feed quindi il catalogo digitale poi è un feed che posso andare a distribuire su n piattaforme l'ultimo non meno importante è quello di non comprendere che ci sono tutta una serie di competenze e di innesti formativi che un imprenditore deve fare perché puoi essere un buon imprenditore sul fisico ma se vuoi fare l'imprenditore e-commerce hai bisogno di tutta una serie di conoscenze almeno in maniera orizzontale per poter gestire o seguire il progetto o poterlo delegare però con condizioni di causa sapendo come stanno lavorando e quali sono le logiche poi per poter crescere e poter ottimizzare ed avere un controllo di gestione dedicato all'e-commerce perché se non ho un controllo di gestione ad hoc su quello che è il conto economico e quelli che sono i flussi di cassa è molto facile iniziare a perdere tendenzialmente margine sulle vendite e produrre poi anche delle perdite semplicemente perché non ho attenzionato nel dettaglio tutti quelli che sono i miei costi fissi e variabili e non ho capito quelle che sono le logiche di generazione del fatturato perché molti vanno online dicono il traffico non arriva sì non arriva perché dico sempre le vendite non sono casuali ma sono causali quindi devo creare una causa affinché produco una vendita e una cauda per farle comunque anche quelle di acquisire traffico e il paid advertising è uno di questo quindi ce ne sarebbero tanti altri ma questi sono diciamo i principali che mi vengono in mente direi che ne hai citati diversi e tra l'altro voi su questo fate diversi corsi di formazione se ci vuoi dire anche qualcosa di più Francesco su questo nel senso ci fa estremamente piacere se siete molto verticali su questi temi qui quindi sì cioè la nostra formazione ovviamente sia operativa sia strategica però spesso lavoriamo proprio a monte sulla parte imprenditoriale perché ancora prima dei KPI marketing ci sono i KPI imprenditoriali che guidano il progetto se è spesso su tutti quei progetti ad esempio pure player o non ci sono dietro già aziende molto strutturate che hanno già una parte amministrativa e finanziare all'interno con dei controlli di gestione e masticano a dovere questi argomenti però per tanti altri progetti manca proprio anche la parte si dice mindset ma di attitudine che deve avere rispetto al progetto vengono anche create delle società a livello di forma giuridica sbagliate spesso per fare e-commerce non vengono gestite bene in termini di fiscalità di legalità di controllo di gestione di team di stakeholder di procedure interne di automazioni interne quindi secondo noi questo viene a monte di tutto e poi puoi iniziare a parlare di tecnologia di marketing di advertising e di attività più avanzate e più operative ma è inutile che ti sistemo un sito a livello di UX UI quindi di usabilità quando poi non sappiamo neanche se ieri abbiamo tagliato o perso quindi ci sono purtroppo o per fortuna non lo so tante ancora competenze imprenditoriali che mancano quindi noi uniamo ovviamente a tutta la formazione operativa e strategica sulle singole verticalità quella che è una formazione più manageriale o anche più imprenditoriale l'offerta formativa è molto vasta adesso insomma non sono qui per fare marchette però c'è da e-commerce tra corsi online corsi in aula master master per chi vuole fare carriera nel mondo e-commerce come specialista o manager dare eventi sulle varie industrie comunque abbiamo sempre insomma tanta carne a fuoco ecco legati a questo si è appena concluso l'e-commerce food conference in cui si è parlato molto di questo settore sia lato B2C che lato B2B visto che sei l'organizzatore di questo importante evento puoi raccontarci un po' lo stato dell'arte e le prospettive future dell'e-commerce nel settore food e beverage allora anticipo che l'idea che abbiamo in e-commerce pool la roadmap è quella di creare comunque degli eventi verticali sulle industrie questo perché oltre una formazione generica alcuni settori hanno tutta una serie di specificità molto particolari il food per esempio ha una logistica e una organizzazione ok dello stock perché la merce può essere anche fresca tendenzialmente quindi devi aggiungere una certa tipologia di temperatura hai delle logiche legate agli scontrini medi ha una frequenza di acquisto perché è un prodotto altamente ricorrente quindi ha tutta una serie di specie che